Salve a tutti ragazzi, qui è Joseph Gamer e benvenuti in questo nuovo video di Mortal Kombat 10. Io vi ricordo di lasciare 1000 mi piace per il prossimo episodio, quindi iniziamo! Morai Cho! Ecco che un altro dei tuoi alleati diventa mio. Quando morirà, reclamerò la sua anima. Non conosci il suo potere. La sua anima non può essere soggiogata. Dobbiamo ucciderlo, Lord Shemok. Non ancora. Sarà testimone mentre conquisto il suo regno. Poi io lo imprigionerò come lui ha fatto con me. Non canterei vittoria prematuramente. Io ho già vinto, Raiden. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. decisivo, il final round ed eccoci qua, devo assolutamente vincerlo, non mi farò sconfiggere anche perché da quanto ho detto appunto da Raiden avrebbe fatto davvero di tutto per far tornare Kung Lao appunto al suo stato normale, per farlo ritornare in pratica in vita ecco qui, messo a terra, fa questa cosa questa sorta di tornado che ci mette davvero in grandissima difficoltà per fortuna sono riuscito a scansarmi quando mi ha colpito, vai così ancora bro, no ma ferrato la scarica di pugni di nuovo mannaggia ragazzi, ce la stiamo vedendo molto brutta vai così, devi insistere porca miseria, posso fare la mossa raggi X? Vai colpisci preso, allora ragazzi non tutto è perduto, come vedete la mia vita è molto bassa però se riusciamo a cavarcela possiamo fare ancora appunto un bello scontro ed ottenere una vittoria, vinto non posso crederci, ce l'abbiamo fatta si meritavi un fatto migliore questo non è il tuo destino Liu Kang altre visioni Raiden vedi ancora il futuro niente più visioni ma so cosa sia giusto mi trovo qui per mano tua un incidente che mi perseguita ancora oggi inizia quindi anche lo scontro con Liu Kang mi sa che ho lanciato tipo una persona contro di lui però va benissimo tra l'altro Liu Kang come appunto Kung Lao che abbiamo sfidato poco fa è uno dei discepoli di Raiden a quanto pare li ha trattati come fedi quindi vuole liberare anche lui peccato che vabbè c'è ora un file d'aggiornamento pronto per l'installazione ma non è il momento perché mi sto picchiando con un nemico che a quanto pare sta per farmi il culo lo vedo piuttosto ecco potente con tre colpi mi manda a terra colpisci adesso il nostro turno di attaccare mettilo giù saltella e poi così montante attenzione nooo non l'ho preso che cazzo è sta cosa che anche lui mi dà il calcio e mi manda via l'ultimo colpo si Raiden vince primo round è nostro ragazzi ce la stiamo cavando bene attenzione avete visto che ha fatto lui ha fatto diciamo il no a dire no amico io non c'è nulla da fare vincerò e quando fai pugni di fuoco mi sa che si incazzerà parecchio ha dato un bel calcio in faccia vediamo eh anche lui a me ma proprio in pieno petto forse più che in faccia così colpisci montante attenzione e ora no che cazzo no devi riprenderti Raiden vai così e ora afferralo è nostro molto bene vai eh tra l'altro siamo anche nel nostro habitat naturale la pioggia il tuo oro i pulmi di quello che volete ma dobbiamo vincere ormai ci manca poco gli ultimi colpi dobbiamo dargli e li mannaggia deve resistere Raiden eliminato ragazzi abbiamo vinto anche stavolta mi spiace che i nostri sentieri siano giunti qui mi spiace Non corromperai il male, Jinsei. Shinnok. Ci siamo combattuti per eunie, Raiden. Oggi finalmente tutto finirà. Non c'è nulla. 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 Quindi alla prossima. Ciao.